Tutto pronto per la finale della tredicesima edizione della Scala della Moda che si svolgerà a Denna in piazza Umberto I domenica 9 luglio a partire dalle ore 19. Circa 150 concorrenti suddivisi in diverse categorie d'età, 75 per la categoria baby, 50 per la categoria dai 14 ai 32 anni e 20 per la categoria over. Saranno giudicati esperti del settore e giornalisti. Si contenderanno i prestigiosi titoli di Miss e Mr. Moda Sicilia, Miss e Mr. Cittadienna e Miss e Mr. Baby Model Sicilia, oltre ad un ricco montepremi di 5.000 euro tra titoli, fasce e gioielli. Inoltre saranno assegnate le fasce Junior Model Sicilia, Miss Trinacria, Miss Cerere, Miss Demetra, Miss Diana, Miss Proserpina e Miss Calliope. Una delle novità di quest'anno è l'introduzione della categoria over dedicata ai concorrenti dai 33 anni in su, che si aggiunge alle categorie già consolidate con partecipanti dai 14 ai 32 anni, baby e junior. Come nelle edizioni precedenti, il concorso offrirà anche l'opportunità ai partecipanti di accedere ad altri prestigiosi concorsi di bellezza nazionali, come Una Ragazza per il Cinema, La Fotomodella Italiana, Mister Intimo e Miss Lingerie, Baby Model, Il Più Bello e The Best Model of Europe. Ospite speciale e presidente di giuria sarà Mercedes Enger, figlia della notatrice Eva Enger, celebrità che ha partecipato nel 2016 al programma televisivo L'Isola dei Famosi e successivamente a diverse trasmissioni televisive. Tra gli altri ospiti della finale ci saranno anche Lady Kent, Epatisse e Alfina Fresta, una giovane cantante che qualche anno fa ha partecipato a Italia's Got Talent, e Miriana Tonna e Mattia Denaro, vincitori dei titoli di Miss e Mister Moda Sicilia dell'edizione 2022. Il tema principale della serata sarà la diversità e la disuguaglianza.